Buonasera, senza abitudini, parliamo due minuti e poi ci preghiamo la partita. Raga, facciamo un capolavoro, proviamoci, dobbiamo fare un capolavoro come giocare, ragazzi, giocare con la passione di quando eravamo bambini, con quella voglia lì, ma anche con la follia, lucidità e follia. Andiamo a fare questa partita per tutta la gente, giochiamo per la gente. Non c'è problema di risultato con il grado, è qua, finito, non serve niente, però giochiamo per la finita. Giochiamo con la lucidità e con la follia, con la strategia, ma il coraggio. Mettiamo in tutti questi ingredienti e andiamo a fare la grande partita, io che sono, e non vi ne freghiamo anche un cazzo. L'importante è che non sbagliamo la passione che abbiamo detto. Abbiamo cinque cambi, stiamo tutti dentro. Siamo gli unici, sentiamoci sedici nera come sono noi. Mettiamo per questa gente, per questa gente, per l'ultima partita. Non ci sono altre parole? Andiamo dritti, proviamoci, un capolavoro. Avete un'ora, un'ora di tempo della partita per prepararvi, per vivere questa magia, per avviare il calcio. E uno di voi, forse, stasera, sono l'eroe. Le partite si diventano. Chi dice che abbiamo, non ci diventano. Chi mi torcevano, non ci diventa. Chi dice che abbiamo, non ci diventa. In bocca al mondo.